Parliamo di test genetici preimpianto per le aneuploidie o PGTA. Queste tecniche sono conosciute anche come tecniche di diagnosi preimpianto e servono per selezionare embrioni con un numero normale di cromosomi nelle loro cellule, detto anche euploide, e scartare quegli embrioni con un numero anomalo di cromosomi, aneuploidie, per non trasferirli in utero. In realtà la vera diagnosi preimpianto è la PGTM, perché seleziona embrioni portatori di malattie genetiche come la fibrosicistica, l'anemia mediterranea, allo scopo di non trasferirli in utero per evitare appunto che i bambini siano poi affetti da queste malattie. In questa tecnica noi dobbiamo prelevare alcune cellule dalla parte più esterna dell'embrione, quella che poi diventerà la placenta, e analizzarle. In questo modo noi trasferiremo solo quegli embrioni normali quando avremo la certezza che quelle cellule sono appunto normali, euploidi. in realtà questa è la teoria, e nella pratica ci possono essere degli svantaggi, e gli svantaggi sono dei costi elevati, il metodo è indubbiamente invasivo, e ci possono essere i cosiddetti mosaicismi dell'embrione nella PGTA. E poi ci sono i problemi delle colture a lungo termine, perché bisogna arrivare a blastocisti per fare questa tecnica, e non è detto che tutti gli embrioni ci arrivino. Che cos'è il mosaicismo degli embrioni? È quel fenomeno attraverso il quale alcune cellule nelle loro divisioni restano normali, e altre cellule invece producono delle aneuploidie o anomalie del numero dei cromosomi. E quindi si crea proprio degli embrioni appunto cosiddetti a mosaico in cui accanto alle cellule normali ci sono quelle anomale. Ma questa realtà che sappiamo esistere noi al microscopio non la vediamo, quindi non vediamo se quell'embrione normale è totalmente anomala o è a mosaico. Però il problema è che quando noi andiamo a prendere alcune cellule, noi in realtà potremmo prendere quelle anomale o quelle normali. E a seconda di quali prendiamo, e questo prelievo è in pratica la cieca, noi siamo portati a dire che quell'embrione è tutto normale oppure è tutto anomalo. In realtà non è così e quindi ci possono essere degli errori di diagnosi, perché quello che noi vediamo in quella parte esterna dell'embrione potrebbe non concordare con la parte interna, che non si può prendere perché è troppo pericoloso, e quindi interpretare la parte interna, che sarà proprio il bambino vero e proprio, come anomalo. In realtà noi abbiamo anche visto che sono nati bambini perfettamente normali dopo una cosiddetta diagnosi preimpianto, in realtà test per le aneuploidie e proprio per questi problemi che abbiamo discusso. Inoltre è noto che l'embrione, pur con delle cellule anomale, si può autocorreggere. E proprio di questo parlava una famosa lettera del professor Gleicher a una prestigiosa rivista scientifica, in cui lui scriveva che questi laboratori che facevano la diagnosi preimpianto, i test genetici per le aneuploidie, perdevano credibilità, perché tendevano a far scartare embrioni magari sani e inoltre inducevano magari tante donne a non utilizzare più i loro ovociti, perché pensavano che sarebbero diventati fonte di embrioni anomali e quindi rivolgersi all'ovodonazione. In effetti le linee guida della Società Europea della Riproduzione proprio hanno decretato già nel 2020 che i cromosomi individuati in alcune cellule dell'embrione non sono rappresentative di tutto l'embrione. E inoltre l'ente governativo HFEA britannico sulla fecondazione assistita scrive proprio nel suo sito che la PGTA è inutile e potrebbe anche essere rischiosa. Grazie a tutti.